Go! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Football Club e oggi, come la promessa, è arrivato l'episodio 3 di Messi e la sua destinazione, o meglio, la sua permanenza, che come è girata su tutti i media, nel web, nei giornali, Messi rimanerà ancora un anno al Barcellona. Allora, questo lo sapete, lo sanno un po' in tutto il mondo, però oggi comunque io andrò, come da promesso, a fare un po' il focus completo sulla permanenza di Leo Messi al Barcellona, che verrà raggruppato in tre punti chiave. Allora, Messi, tutto è iniziato giovedì, che dopo la sentenza della Liga è arrivata anche la sentenza definitiva del Tribunale, che Messi non ha rispettato la clausola, cioè non si è svincolato a luglio e quindi non poteva più farlo. E lì è passato il gioco, la palla è passata a Bartomeu, che poteva decidere di sanzionarlo, ma alla fine non l'ha fatto e ha deciso, e gli ha detto solo una cosa, solamente una cosa. Tu, Messi, sei il nostro star, puoi decidere se rimanere a giocare con noi, titolare, a fare ancora il capitano, il leader, il carismatico e tutto, oppure puoi stare separato in casa e non giocare, stare in tribuna e non giocare. Allora, lì Messi, alla fine si è deciso e venerdì o sabato, non mi ricordo, è stato intervistato a Gol, dopo la sentenza del Tribunale, in cui diceva che comunque è contento di restare al Barcellona, anche se, insomma, ha creato stare al Barcellona perché il suo club è da vent'anni che in questo club, lo ha sempre amato, aveva, sì, non era dispiaciuto di rimanere, però aveva voglia di cambiare un po' aria, ha dichiarato. E ha detto soprattutto, che comunque ha fatto molti complimenti al Barcellona, ha detto che ci stava a rimanere e tutto, però, 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 ha detto che Bartomeu non è stato molto leale. Ha detto che Bartomeu gli aveva promesso che se a fine stagione voleva andare via, lo poteva fare e non gli aveva detto niente a quanto riguarda la clausola e il fatto di vincolarsi. Ha detto, tu, a fine stagione, quando vuoi, ti liberi a zero. E il Messi ci ha creduto, ha giocato fino alla fine, poi dall'8-2 contro il Bayern ha detto, boh, basta, vent'anni, ok, sono passati, cambio aria, vado in un'altra squadra. Allora lì, subito ho piombato l'Inter, che comunque era in prima fascia già da mo', però è spuntato il City di Guardiola, che c'erano delle voci che erano andate già prima delle due sentenze della Liga e del Tribunale Spagnolo. E' stato già lì a trattare a tavolino con la pulce, l'impero Suning che ha mosso molti soldi anche per il discorso della residenza del 20% in meno, cioè che se Messi andava all'Inter, l'Inter pagava il 25% in meno dello suo stipendio grazie alla regola della residenza. C'erano tanti voci social di scherzi, della Cavarese, che poteva tornare alla sua città di nascita, la sua città Rosario. In quella squadra, per andare agli United, c'eramoci del Paris Saint Germain. Alla fine mi è stato sventito tutto, nell'intervista completa a gol ha detto, va bene, ho fatto 20 anni, volevo cambiare aria, però alla fine non mi dispiace rimanere ancora un altro anno, anche se Bartomeu mi ha lasciato desiderare. E poi è anche definito che, e poi ieri sono arrivati il nuovo maglio del Barcellona, la terza maglia rosa della prossima stagione, rappresentata proprio da Messi, quindi qua un po' ha tranquillizzato un po' dopo l'intervista, ha tranquillizzato un po' i tifosi catalani, pensando che ormai il rapporto si sia riappacificato, anche se secondo me Messi non ha riappacificato niente, secondo me. Messi secondo me è stato, anche dall'intervista o la sponsorizzazione, secondo me Bartomeu e la dirigenza sotto hanno fatto qualcosa, perché Messi non lo vedevo molto naturale io, questo è il mio pensiero, non lo vedevo molto naturale, secondo me qualcosa dietro è successo, magari un ricatto riguardo all'ingaggio, sarà boffa, fantapensiero, però secondo me c'è qualcosa sotto. Anche dall'intervista, c'è qualcosa sotto. Terzo e ultimo punto, ma in ordine cronologico solo, che Messi dall'allenamento a parte che faceva insieme a Vidal e Suarez, adesso è tornato ad allenarsi in gruppo, con un nuovo allenatore, faccia a faccia nuovo con Koeman, che gli ha detto che, ha detto benvenuto in squadra, dopo le dichiarazioni di una settimana fa che diceva faccia a faccia, tu non sei parte del progetto, come ciò che ha detto a Suarez, a Vidal, a Rakitic, tantissimi giocatori, e quindi è tornato, sembra, sembra, sembra che si sia rapacificato, ma per me non si era pacificato niente. E comunque Messi, sembra che abbia chiesto comunque di voler avere un partner lì davanti, perché è andato via a Neymar. Adesso Suarez si è imbestialito con Koeman, e adesso proprio in via di partenza, questa settimana per il pistolero c'è il test di italiano per la residenza, e poi potrà abbracciare la corte bianconera, quindi affare che si svolgerà nell'ultima settimana, quindi Messi ha pregato a lui di restare, ma Suarez ha detto no, basta, ce la faccio, non mi va di stare con questo progetto, con questa dirigenza. Allora Messi sembra aver chiesto un nuovo partner, un nuovo partner offensivo, ci sono voci su nomi molto più, nomi prestigiosi come Cavani, esperti come Cavani, però sembra tornare, sembra tornare l'idea Lautaro Martinez, e diciamo che in questo periodo, insomma nell'ultimo mese dopo tutto questo caos, il Barcellona si è messo a segno dei colpi, ma sembra che si sia proprio lasciato alle spalle Lautaro Martinez, l'Inter e i dirigenti hanno dichiarato che il Toro dall'Inter non si muove, anche Lautaro del Toro mi trova bene qui, voglio vincere qui, è tutto, quindi sembra che resti all'Inter anche per questa stagione, e in realtà alcuni giornali spagnoli, cioè mondo deportivo, hash, sappiamo che molto ma molto, volte, su molte volte, dicono molte molte ma molte frottole, come si suol dire, tipo uno o due anni fa, mi ricordo, due anni fa c'era scritto, Pogba ufficiale al Real Madrid e Mopeu ufficiale al Barcellona, io li vedo ancora con i rispettivi club, poi, e allora comunque stavo dicendo che stamattina è arrivata l'ultima news, su, impossibili, sui dirigenti dell'Inter e gli agenti Lautaro Martinez, a Barcellona per trattare con, con il club catalano, visto che Messi e Lautaro sono molto amici, infatti questa era una delle uniche possibilità che Messi venga all'Inter, solo per abbracciare Lautaro, suo amato compagno nazionale, e, e quindi sembra che l'affare Messi-Inter non si possa fare, ma Lautaro-Barcellona, come stavo dicendo, a molti giornali, giornalisti, direbbero, che ci siano questa entourage di Lautaro e dirigenti dell'Inter a trattare con Bartomeu. Allora ragazzi, da Miki, il video finisce qua, piccolo sponsor, stasera, per il post partita di Italia-Olanda, ci potrà essere un video, non so, ci potrà, credo che, farà un video, insomma, ci potrà essere un video, quindi, mettete like, iscrivetevi, attivate la campanellina, ed amichi, questa è tua,